Buonasera a tutti e a tutte, grazie di partecipare a questo incontro. Io vorrei riprendere questo legame tra sessismo e razzismo leggendolo attraverso una lente specifica, che è quella della sessualità. Vorrei partire da un termine, che è il termine nazione. Il termine nazione viene dal latino nascor, nascere, che è la stessa radice di natura, naturale. Per cui quando il concetto di nazione rimanda alla nascita, ci fa pensare alla mamma, naturalizzo una cosa che è una costruzione, ovviamente una costruzione immaginale, la nazione la rende quasi naturale. Ogni volta che noi ci riferiamo al concetto di nazione, pensiamo a qualcosa di sessuato, immediatamente. Anzi, è strettamente legata alla nascita della nazione, le asimmetrie di potere tra i sessi nel legame con le cosiddette razze. Perché c'è questo legame? Perché per fare una nazione bisogna controllare la sessualità delle donne. È attraverso il controllo della sessualità delle donne che noi abbiamo la purezza etnica. È attraverso la sessualità delle donne che riproduciamo l'identità nazionale perché evitiamo ogni contaminazione razziale. La costruzione della nazione è stata un'impresa maschile, così come un'altra impresa che è il colonialismo. Vorrei provare a mostrare il legame tra queste cose attraverso un esempio concreto, che è quello della prostituzione delle nigeriane. Vittime della tratta, non so come in questa regione, ma in Sicilia c'è un monopolio delle donne nigeriane nella prostituzione da strada. Non esistono più italiane sulla strada perché è il luogo più pericoloso, più scomodo della prostituzione. La prostituta nigeriana è una donna, ma anche nera. C'è un legame tra queste due cose perché quello che viene acquistato al cliente non è soltanto sesso, ma è l'alterità, l'esotismo. E' quello che è stato definito un souvenir etnico. E tutti i clienti delle prostitute nigeriane sono uomini e sono bianchi, sono italiani. Ora, vi volevo leggere un'intervista a un cliente delle nigeriane che diceva Ogni tanto, diciamo una volta alla settimana, vado con le negre. Sono stato anche con altre prostitute, ma con le negre mi diverto di più. E' come fare un safari, mi sembra di andare a caccia, mi sembra di cacciare degli animali grandi e grossi. Poi, sono tutti uguali, vai nel mucchio, non hai il problema della scelta. Poi loro, poi i soldi, fanno tutto con loro, ti senti una potenza. In questa affermazione, io leggo un inquadro, questa relazione tra il cliente che dice queste cose alla prostituzione nigeriane e una cornice anche di tipo coloniale. Abbiamo accennato, noi abbiamo un passato coloniale che abbiamo dimenticato. Ma anche nell'impresa coloniale c'era propagandata le opportunità sessuali che venivano fornite dalle colonie. Possibilità sessuali che erano scarse in una madrepatria inibita dal punto di vista sessuale. Io penso che l'attuale rapporto del cliente italiano con la prostituta nera ci sia un ricordo di questa esperienza coloniale che si è costruita in 40 anni di colonialismo dell'Italia liberale e in 20 anni del ventennio fascista. Il problema è che la grande maggioranza, i coloni italiani, erano in stragrande maggioranza maschi ed erano soldati, erano militari di leva. Vi leggo alcuni dati. Durante la guerra coloniale in Etiopia, abbiamo mandato quasi mezzo milione di uomini, cioè uno su cinque dei maschi che nel 1935 avevano tra i 20 e i 25 anni. I nostri uomini nelle colonie si comportavano come ci si aspettava che si dovessero comportare gli uomini. A parte gli stupri delle donne africane nel periodo della guerra, anche a conflitto concluso, le donne africane avevano considerato un bottino di guerra. Alla conquista di Asmara nel 1889, il generale Baldissera disposa che le donne etiopi fossero riotte in schiavitù e sorteggiate tra gli ufficiali italiani come ricompensa per la vittoria. Nel 1903, la società antischiavistica italiana ha fatto un censimento nella capitale della colonia Somola e solo nella colonia gli schiavi erano un terzo della popolazione residente. Nella casa del governatore Becchi Bricchetti furono ritrovati i contratti di compravendita di questi schiavi per le più schiave che erano regolarmente vidimati dalle autorità coloniali italiane, c'era un bollo ufficiale. Poi avevamo anche due fenomeni che erano il madamato e lo scarnuttismo. La scarnutta era la prostituta riservata ai militari di livello basso mentre il madamato era l'affitto temporaneo di una donna che diventava la moglie informale degli ufficiali. Ma poi in tutta la nostra impresa coloniale c'è stata una rappresentazione del continente nero come paradiso dei sensi, finalmente a portata dei maschi italiani. Le donne nere erano selvagge, incapaci di controllare i propri istinti. C'era addirittura un'industria di cartoline erotiche a sfondo con soggetti africani. Noi siamo passati da questo passato coloniale con cui non abbiamo fatto i conti alla nostra quotidianità postcoloniale in cui, secondo me, abbiamo i cascami, le ricadute di questa tradizione. Io penso innanzitutto agli scandali sessuali delle forze di pace italiane nel corso d'Africa che non molti anni fa si fotografavano mentre penetravano donne africane con i razzi segnalatori. Si facevano le foto, ricordo, c'è stato uno scandalo ai tempi. E questa eredità continua anche oggi, per esempio, nella pubblicità, dove il muso del corpo della donna nera è massiccio legato alla sensualità, oppure è legato al turismo sessuale degli europei nei paesi ex-coloniali. Ho fatto questo esempio, però il legame tra sessismo e il razzismo non riguarda soltanto gli uomini, riguarda gli uomini, per lo più il discorso che voglio fare, ma non riguarda soltanto gli uomini eterosessuali, perché riguarda anche gli uomini omosessuali. Ci sono delle ricerche su come vengono accolti i soggetti LGBT di origine straniera nella comunità LGBT. Perché denunciano cose che ci possiamo immaginare. Innanzitutto l'esotismo come primo approccio, a cui seguono spesso stereotipi e pregiudizi. Ma il problema è che c'è anche una questione di difficoltà di traduzione, perché noi ragioniamo sulla sessualità a partire dai nostri schemi, ma le sessualità non sono tutte uguali sul pianeta. Per cui noi abbiamo una concezione dell'omosessualità, per esempio, che è identitaria. Nella nostra società esistono soggetti che hanno un'identità omosessuale e soggetti che hanno un'identità omosessuale ed eterosessuale. Mi sono perso. Non in tutte le culture funziona così. Esistono culture in cui non c'è questa netta dicotomia. Per esempio, a un uomo è possibile avere rapporti con uomini e con donne se rispetta alcune regole. Per esempio, se fa sesso predominantemente con le donne, con gli uomini fa solo sesso ma non ci sono implicazioni sentimentali e soprattutto nel rapporto sessuale-omosessuale l'uomo mantiene un ruolo intrusivo ed eiaculativo. Il problema è che spesso noi ci rapportiamo agli stranieri con un fraintendimento. Pensiamo di fare la stessa cosa, di parlare la stessa cosa, in realtà parliamo di cose diverse. Per esempio, c'è una testimonianza di un ragazzo pakistano che si lamenta del fatto di essere discriminato nella comunità gay perché lui si definisce capace di fare sesso con uomini e con donne e leggono questo suo comportamento esclusivamente come falsa coscienza. Ma un altro esempio di rapporto asimmetrico sia per esempio con il turismo omosessuale europeo nei paesi, nelle ex colonie. Gli omosessori europei fanno turismo omosessuale a Cuba, in Thailandia, nella Sri Lanka o anche in luoghi come il Maghreb soprattutto dove i ragazzi proprio per questa concezione per cui se un uomo è intrusivo con un altro uomo non è omosessuale spesso fanno sesso con omosessori europei magari in cambio di un regalo. Il problema è che oltre al turismo omosessuale all'estero noi abbiamo anche forme di prostituzione omosessuale in Italia e i prostituti che si prostituiscono a clienti maschi sono per lo più stranieri. Secondo le ricerche sono originari dalla Romania e dalla Bulgaria. Di recente c'è una prostituzione nigeriana maschile esercitata in hotel e in locali notturni ma la stragrande maggioranza dei ragazzi proviene all'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia. E dalle interviste fatte ai clienti emerge come ci sia una razzializzazione del corpo comprato perché c'è una eroticizzazione di elementi fantasticati innanzitutto le dimensioni del pene the big dick il prostituto è esotico per il colore la pelle è super dotato poi essendo un europeo ha un rapporto incontaminato con il sesso è diretto, è selvaggio, non ha tutte le sovrastrutture che noi nella vecchia Europa abbiamo il problema è che spesso nella prostituzione omosessuale vengono in contatto due cose diverse perché probabilmente abbiamo un cliente che è omosessuale mentre abbiamo un prostituto che non si consiglia da eterosessuale che magari è una fidanzata si consiglia da eterosessuale e lo fa esclusivamente come una sorta di ammortizzatore sociale per i periodi di disoccupazione allora in realtà noi abbiamo un contatto sessuale tra chi è un'identità gay e chi è un sex worker che si autodefinisce eterosessuale allora non stupisce che in questo incontro interculturale ci siano fraintendimenti ci sia dominio, ci siano prepotenze, ricatti, violenze da una parte e dall'altra voglio dire perché in questo altro esempio abbiamo uno scambio tra esotismo ed erotismo che agisce in generale nelle prostituzioni migranti un altro esempio è quello legato al fatto che statisticamente la stragrande maggioranza delle transessuali che si prostituiscono in Italia sono di origine sudamericana e allora i legami tra sessismo, razzismo e la sessualità sono complessi e non è possibile affrontarli dal punto di vista politico non è possibile affrontarli separatamente non si può fare antirazzismo se non si fa contemporaneamente antisessismo al contrario io non posso fare, non posso essere femminista se prescindo da come la differenza etnico-culturale interagisce nella costruzione del genere femminile così come in Italia quando noi facciamo lotte per i diritti LGBT sacrosante, ovvie, banali non sarebbe più neanche il caso di parlarne è importante però ricordare che bisogna condurle cercando di evitare l'uomo nazionalismo e parlare delle differenze come di cose che si attraversano tra i loro e che ogni volta che abbiamo davanti una persona abbiamo una biografia, un percorso in cui le forme di dominio e di oppressione possono essere le più disparate e bisogna tenerle tutte assieme le differenze o si tengono tutte assieme o non se ne rispetta neanche una grazie grazie grazie